La compagnia di bandiera tedesca Lufthansa ha deciso di sospendere momentaneamente i voli da e per Tehran in Iran a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente. La cancellazione dei voli sarà in vigore almeno fino a sabato 13 aprile. La decisione è stata estesa l'11 aprile, quando la sospensione sarebbe dovuta cessare. L'allerta nell'area è massima dopo l'attacco aereo del 1 aprile scorso sul consolato iraniano a Damasco, che ha ucciso 7 persone.